Ciao a tutti ragazzoni, vi mostrerò in questo video dove ballare non è senso che dovete uscire ma dove ballare è stato detto per compitare le sfide di la sua marco qui dobbiamo stare se c'è la terza di quando non devo ballarci dentro non è bene in marco ok è tutto il suo passione per ballarci dentro vedete come si fa? perchè lì si trova l'hamburger qui c'è poco l'hamburger qui c'è ballarci è la fase 2 che ho messo tu non l'ha fatta a fase 1 no ebbè a fase 1 si trova a fase 1 ah mega molla lo facciamo un salto dai ah piace costruire purari? no dimmi che non devo costruire dimmi che c'è un'altra ristrata guardate questo che stanno molto a parte ok fatto non è proprio un atterraggio si gioca per vincere adesso si sa vedeteci stop perchè sali 5 6 faccio 7 o 9 uuuuuh numero o 7 o 9 io ne faccio 7 tu non fai 9 dai sali 5 io continuo con il flash buona immagine si è rimasto in alfabetica faccio 5 o 6 ecco la tazza ecco la tazza ma sta gel ma noi sei la lupo ma noi sei la lupo fu ma mi arrivo una intambesemente qui se una bella con la fichi toni